Andrea Martina Revisore Buonasera a tutti. Dunque, quello di cui vorrei parlarvi questa sera è visual design. Secondo me, il mondo in cui stiamo vivendo adesso è una fase un po' in cui stiamo assistendo a una sorta di salto di paradigma. Per questo vorrei adottare un po' la metafora, comunque l'abito del linguaggio e della genetica per parlarvi di visual design. Noi stiamo abitando in una condizione, in un mondo che è fatto sostanzialmente di dati. Questa sorta di entusiasmo per l'immaterialità e la miniaturizzazione, l'invisibilità delle cose e l'invisibilità dei meccanismi di funzionamento delle logiche in cui il nostro mondo sostanzialmente funziona, le logiche che dominano la nostra vita quotidiana, sta un po' passando. Un entusiasmo che si è un po' esaurito. Questa stessa fascinazione è quella che sostanzialmente ha segnato il passaggio da un'economia basata sostanzialmente sulla presenza e sull'esibizione della merce e degli oggetti. È un universo basato quasi esclusivamente sulle transazioni digitali e sulla miniaturizzazione dei dispositivi intelligenti che pervadono in maniera quasi totalizzante la nostra vita quotidiana. Per noi ciò che è piccolo è anche intelligente. Ciò che non si vede, ciò che è immateriale, ciò che è invisibile immediatamente viene associato a un'idea di sviluppo, di progresso, di intelligenza. Quindi nel momento in cui noi parliamo di invisibilità abbiamo un problema molto importante in realtà. Cioè per noi è impossibile, data la complessità del mondo in cui viviamo, vedere, cioè renderci consapevoli di quelle che sono le logiche che dominano questo mondo. Cioè ciò che è diventato immateriale, che fino a un po' di tempo fa ci ha entusiasmato, attualmente non riusciamo più a riconoscerlo. E questa impossibilità di visualizzare quelle che sono le logiche che dominano la nostra vita è diventato un problema politico, un problema sociale, un problema anche economico. Nel senso che c'è una sorta di spaesamento perché non sappiamo più come funzionano le cose. Come sostanzialmente il fatto di essere connessi, quindi essere costantemente in contatto, è diventato un bisogno primario, anche la capacità di visualizzare le cose è diventata una sorta di condizione primaria per la sopravvivenza all'interno del nostro ecosistema. Chiaramente quando io parlo di visualizzazione e di vedere, non mi riferisco in generale a un'immagine visiva, quella che può essere quella televisiva o quella fotografica, non mi riferisco a un concetto di vedere che ha più a che fare con la decodificazione cerebrale delle cose, cioè non tanto l'occhio, quindi non tanto l'immagine di per sé, quanto proprio all'immagine elaborata dal cervello. Quindi sostanzialmente un bisogno primario che credo abbiamo oggi è quello di sintetizzare, cioè di filtrare un enorme flusso di informazioni che ci troviamo ogni giorno a disposizione. Sintetizzare non significa più come una volta da poter assimilare uno stesso contenuto in un minor tempo. Non significa scegliere, cioè significa capire ciò che rispetto a un determinato argomento, rispetto a un determinato tema è migliore di qualcos'altro, è più rilevante da sapere rispetto a qualcos'altro, o anche semplicemente ciò che è giusto rispetto a ciò che è sbagliato, perché l'enorme quantità di informazioni che noi abbiamo a disposizione è anche una fortissima quantità di rumore, cioè noi disponiamo di molte informazioni, però anche di molte informazioni sbagliate. Una volta ne avevamo meno, però sostanzialmente era molto più facile che quelle che le nostre fonti di informazioni erano le fonti di informazioni giuste, corrette. Quindi in pratica sembra quasi che il passaggio per quanto riguarda le nostre fonti di informazioni da un sistema analogico a quello digitale abbia sostanzialmente determinato un salto di gerarchia nel modo in cui noi apprendiamo queste informazioni da un modo sostanzialmente tassonomico, alfabetico e testuale a un modo che ragioni in modo più tangenziale, più legato alla grafica e alla visualizzazione, cioè un modo forse anche un po' più casuale di vedere le cose. In ambito scientifico sta avvenendo un po' la stessa cosa. La frontiera della ricerca scientifica non si gioca più tanto sulla capacità di elaborare enormi quantità di dati, oppure di accedere a database sempre più estesi di date, ma quanto di capire e di trovare dei modi sempre più intelligenti per visualizzare domande nuove con cui questi database si interrogano. quindi in questo senso quello di cui vorrei parlare stasera non è tanto farvi vedere nuovi modi, nuovi risultati grafici, nuovi layout, nuovi output di questo tipo di processo, ma proprio di parlarvi di processi, strategie e metodi di visualizzazione. Questo salto di paradigma che io tornerei a definire genetico ha un po' la sua manifestazione nel disegno. Cioè il disegno è diventato una forma centrale nel nostro modo di accedere alla conoscenza. Il disegno in generale ha pochissimo a che fare con la tecnica, è molto di più connesso all'ambito dell'organizzazione, della sintesi e della scelta. Non a caso, un momento in cui nella cultura occidentale il disegno assume un'importanza fondamentale è quello dell'Encyclopedia di Francese, di Deleuze Lambert, in cui il fatto di disegnare in un certo modo, con un certo stile, praticamente quello che era considerato tutto lo scibile umano al tempo, c'è tutto l'insieme del sapere complesso che fino a quel momento l'umanità aveva accumulato in un certo modo, ha determinato che tutta quella conoscenza, tutto quel corpo di conoscenza venisse tramandato con delle logiche che poi sono quelle che hanno determinato il progresso dal settecento in poi. E chiaramente questo tipo di imprinting è stato fatto attraverso il disegno. In generale noi siamo abituati a pensare al disegno, quindi alla rappresentazione, come una disciplina a servizio di qualcos'altro. Una parte sostanzialmente, anche se estremamente efficace, è comunque accessoria e non fondamentale per raccontare qualcosa. Una delle tante possibili estensioni del modo in cui noi raccontiamo una storia. Ad esempio un progetto di architettura viene alla sua origine come una sorta di concezione dell'articolazione di uno spazio e possibilmente, come sua tendenza ultima, è quella di avere questo spazio costruito. Le istruzioni per il montaggio di qualcosa, di un oggetto, anche del più semplice, del mobile Ikea che si compra, sono una fase transitoria nella vita di un oggetto che poi invece ha una vita che poi è fatta da altro, è fatta della stessa materialità. Le istruzioni si prendono, si usano per montare l'oggetto e poi vengono buttate via. Quando però cominciamo a bridare queste due cose, semplicemente otteniamo qualcosa di completamente diverso. Il fatto di poter contaminare con linguaggi visivi diversi, come questo lavoro che è stato pubblicato nell'arco di tre anni sulla rivista Abitare che si chiama Istruzioni per l'Uso, in cui ognuno dei progetti pubblicati all'interno della rivista, che si trattasse di progetti d'architettura, come in questo caso, oppure progetti di design, installazioni temporanee, oppure addirittura delle opere d'arte, quindi in questo caso sono dei frame di un video di Vishen Weiss, l'utilizzo del linguaggio delle istruzioni per l'uso applicato al progetto crea una sorta di ibrido con un cortocircuito. E, creando un cortocircuito, il disegno qui non è trattato nell'ambito del suo specifico disciplinare, questi non sono disegni di architettura come delle piante, delle sezioni tradizionalmente disegnate, ma vanno a costituire una sorta di altro ecosistema, in cui il progetto, l'oggetto che viene preso in esame, costituisce un nucleo centrale, a cui attorno vengono aggregate diversi livelli di informazione, con diverse sfere di informazione più o meno attinenti all'oggetto di per sé, cioè in cui il disegno vero e proprio parla dell'oggetto, quindi lo descrive, l'utilizzo della sonometria, cioè di un disegno sempre paragonabile da un progetto all'altro, costituisce una sorta di trait d'union, un elemento di decodifica. Poi ci sono altri schemi, diagrammi, parti testuali, che invece cominciano a distanziarsi dalla narrazione specifica del progetto per introdurre altri mondi di significato, altri ecosistemi. Ci costituisce una sorta di ecologia del progetto che piano piano diventa sempre più, come dire, esteso, acquisisce sempre più ricchezza di significati. In questo senso, quindi, scegliere un particolare modo di visualizzazione costituisce un elemento di progetto, non è più qualcosa che descrive un oggetto, ma ne fa qualcosa d'altro. In questo altro progetto c'è un lavoro a cui siamo stati chiamati a partire dal 2008 da un team di ricerca che si chiama The Colonized Architecture, su cui abbiamo lavorato due anni, che tento di riassumere in poche parole, e che riguarda sostanzialmente la trasformazione architettonica degli insediamenti israeliani nel territorio occupato dell'Ace Giordania. In questo caso noi siamo stati chiamati a disegnare un manuale. Anche qui un manuale di istruzioni per la modifica delle singole unità immobiliari di questi insediamenti. La cosa peculiare di questi insiemi di abitazioni è che sono estremamente ripetitive e modulari, cioè sono molto estesi nei territori occupati, perché, come sapete, ci sono moltissimi insediamenti israeliani all'interno dell'Ace Giordania, però questi insediamenti sono uno uguale all'altro. Quindi l'idea di fare un manuale nasce dal fatto di dire ok, non concentriamoci su un insediamento specifico, non facciamo un progetto architettonico su un insediamento, ma prendiamone uno a caso, come una sorta di caso studio, e modificando i singoli moduli, il singolo interno immobiliare di quell'insediamento, creiamo un manuale che possa essere utilizzato dappertutto. Addirittura quasi in un ambito geografico non sia solamente quello degli insediamenti palestinesi, ma in qualsiasi parte del mondo si possa pensare a un progetto di decolonizzazione, cioè di trasformazione dell'architettura in cui l'architettura perda quel suo potere, quella sua funzione di colonizzazione e riviva in qualche cosa d'altro. Quindi, in questo senso, la decisione di fare un manuale è esattamente la scelta che permette di… quindi una scelta molto specifica nell'ambito della visualizzazione. Il disegno stesso costituisce un progetto, cioè è un progetto che considera il totale bypass di quella che è la filiera produttiva normale dell'architettura in cui abbiamo bisogno di un architetto che firma un progetto, quindi di una sorta di figura autoriale che impone la propria visione su un manufatto, l'ingegnere che fa i calcoli, chi finanzia il cliente, tutta la struttura amministrativa e politica che permette determinate trasformazioni. ma il poter rappresentare con una coerenza visiva che è estremamente semplice, cioè l'uso di pochissimi colori, l'uso di un linguaggio di segni estremamente coerente e semplice, con tutte le pagine che compongono questo libro, permette di dare direttamente alla popolazione, cioè a chi poi si troverà a poter trasformare questi insediamenti, uno strumento che non è tanto una sorta di vede mai compreciso su quello che deve fare, ma quanto un suggerimento su un possibile scenario, cioè di trasmettere veramente quello che è il germe del progetto a chi in realtà non è abituato a pensare in termini progettuali, perché quando uno vede un manuale su come concretamente ti può trasformare qualcosa, non è importante che poi faccia esattamente questa trasformazione, ma capisca che con questa stessa logica io posso iniziare a pensare ad un cambiamento, e iniziare a pensare ad una trasformazione. Quindi qui vedete solamente alcune immagini che attraverso alcune categorie di trasformazione permettono sostanzialmente la densificazione di questi insediamenti e l'uso da un programma puramente residenziale di queste case ad un uso molto più ricco e più urbano di questi insediamenti. In un'ipotesi futuro, in uno scenario, speriamo plausibile, in cui questi insediamenti e un futuro vengono non più segregati, abitati esclusivamente dalla popolazione israeliana, ma vengono condivisi ad un uso assolutamente più promiscuo e urbano. L'ultimo progetto di cui vorrei parlarvi è qualcosa di un po' più diverso dei due lavori che avete visto fino adesso. È un progetto che è ancora assolutamente infieri, che è quello della nuova rivista Domus. In questo caso il disegno non riguarda più tanto un progetto di per sé un progetto singolo, ma quello riguarda il disegno di un contenitore, cioè un contenitore che contiene molti altri progetti, dei progetti che non sono propri. Anche in questo caso io credo che si possa applicare uno stesso tipo di approccio, uno stesso tipo di ragionamento sistemico, cioè quello di pensare ad un layout, cioè una sorta di struttura, di cornice, che non ragioni in termini puramente, come dire, stilistici, ma riesca a fornire una sorta di piattaforma iperleggibile di quelli che sono i contenuti che ogni volta vengono pubblicati. In particolare, disegnare una rivista oggi è un compito un po' da un certo punto di vista demotivante, nel senso che le riviste, sappiamo tutti che sono in crisi, perché non sono assolutamente più, da un certo punto di vista, competitive con la velocità delle informazioni che noi abbiamo a disposizione in una miri di altri mezzi. Quindi credo che il problema che ci si debba opporre è perché una persona debba comprare un mezzo che è costoso, pesante e completamente diverso per informarsi rispetto a semplicemente utilizzare uno strumento che è il computer che utilizziamo per non miri di altre funzioni tutti i giorni. Io credo che il perché stia nel disegno di una rivista. Un disegno inteso non in senso prettamente grafico, ma nel disegno della capacità di una rivista di avere un po' quel compito, come si diceva prima, di aggregazione, cioè di fornire una piattaforma, la piattaforma insedia una sorta di contenuto in più ai contenuti singoli che sono presentati. Quindi ragionare in termini di gabbie, di leggibilità dei corpi tipografici, di gerarchia della titolazione, delle informazioni, fornisce una sorta di in più che non troviamo di fatto in nessun altro sopporto, che solamente la carta riesce ancora a dare. E chi fa questo lavoro? In pratica disegnare una pagina costituisce un po' una sorta di lavoro analogo a quello che fa il cartografo, in cui chi disegna una cartina geografica deve comunicare a qualcun altro che deve orientarsi in un territorio sconosciuto sulla base di qualcosa che solo lui ha visitato. Di fatto quando si deve comunicare un contenuto a qualcuno che non lo conosce, di cui tu invece sei tutto perché hai visto le immagini, le foto e i disegni, deve un po' fare questo, cioè creare una sorta di panorama in cui qualcuno si può orientare in modo il più veloce e il più immediato possibile. Quindi quello che è stato fatto su Domus è stato, a partire da un'analisi su quelli che sono stati gli ultimi Domus, è stato quello di capire quali sono i tre linguaggi principali che questo tipo di rivista offre, che sono sostanzialmente quello testuale, quello fotografico e quello di disegno. Il tentativo è quello di dare ad ognuno di questi tre linguaggi il supporto più consono alla propria comunicazione. Nella nostra Domus nessun disegno è al lì fuori delle pagine dedicate ai disegni, perché una rivista dell'architettura è sostanzialmente anche qualcosa che viene utilizzato per copiare. Cioè chi fa progetto, che faccia design, che faccia l'architetto, che faccia l'artista, sostanzialmente copia da qualcun altro. E quindi i disegni sono di fatto il metodo, come dire, la via più immediata e semplice per copiare. Quindi il disegno in questo nuovo progetto acquista una forza che prima fino adesso non ha mai avuto in questa rivista. Le fotografie vengono trattate in un modo il più possibile che tenti di rispettare la propria natura, per cui alcune foto sono condensate in una parte iniziale che è una sorta di foto essay con una carta completamente diversa, lucida, mentre altre foto vengono utilizzate in modo descrittivo rispetto al progetto che supportano. Quindi vengono sporcate quando le didascalie vengono utilizzate come una sorta di materiale da annotare. Di conseguenza, l'uso delle didascalie e dei testi, ci sono dei saggi molto lunghi che vengono trattati come dei testi, quindi una rivista che sia una sorta di libro in cui abbiamo cercato di porre attenzione massima nei pesi dei corpi per i testi principali, per le didascalie, per la titolazione, per i sommari, eccetera. Infine, quindi, sostanzialmente anche in questo caso, quello che si attiene è quello di considerare tre linguaggi diversi, banalmente appunto il testo, la fotografia e il disegno, costruire quello che è una sorta di ibrido, cioè un organismo che ragiona con i patrimoni genetici di ognuno di questi tre elementi e tenta di combinarli in un oggetto nuovo che è possibilmente questa rivista. Grazie. 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 Grazie.